buongiorno ciao si parte si è al contrario c'è anche il nonno qui e si parte ma si vergogna a cinque minuti siamo già arrivati no non è vero siamo partiti da poco si va a festeggiare la pasquetta dai nonni con alessandra con tanto di fiocchetto non so se lo vedete ciao amore ciao amore eccoci arrivati io non ce l'ho fatto è un uovo gigante ma questo è un piccolo il c'è un piccolo dobbiamo metterci alessandra si vabbè la possiamo mettere anche mentre dorme potrebbe fare tranquillamente l'uovo stiamo aprendo l'uovo gigante l'uovo gigante mamma mia vai amore no no non la dobbiamo rompere male perché ci dobbiamo mettere alle dentro si dai mamma fai da valletta nell'uovo gigante abbiamo trovato questo eccolo apri che è un aspetta romperlo a fede questo qua è veramente carino è tutto un set manicure guardate quante cose e questo era un uovo gigante e adesso federico apre il suo uovo dei trasformer vai a un piano non ti farei male 3 dimensionale bello è il 3d non è piatto se fosse piatto adesso c'è già un pezzi cioccolata però wow aspetta con la mano a perla non piace il cioccolato al latte non ho capito cos'è però un pazzetto dei trasformer un pazzetto cosa c'è al latte non mi piace salve guardate che sei giusto al ciuffo quello è fondente però e io vado di latte ecco lasciamo lo stampo anche alla nonna allora il primo uovo era questo poi l'altro dei gormiti abbiamo perso la carta e adesso apriamo questo qui dei pokemon e poi ci maniamo pure la colomba come se non bastasse ah questo qui è già spaccato è già spaccato e che cos'è questo è molto bello bello puoi vedere ma che cos'è sono dei pennelli, gli evidenziatori ah si? mi sa eh si bello vedi questo ci piace e bisogna assaggiare anche un pezzo di cioccolato è un cioccolato decente avete capito decente assaggia ciao ragazze nuovo giorno oggi è il giorno dopo pasquetta e sono appena andati via altri parenti ce ne ho portato altre due uova e Federico le vuole aprire insieme a voi allora sono tutte e due di Mario Kart ed è rimasto contentissimo Fede perché a lui piace Super Mario eh se trovo Super Mario Yoshi sono felicissimi vai dai vediamo cosa c'è dentro perché ci mangiamo anche un pezzettino di cioccolato si tanto ci avranno ascolta per più di tre settimane si quindi mmm è bello grosso si questi qua sono quelli di Kittaro o quelli di Lamedi pensavo che ero più piccolo guarda dai ho dovuto un pezzettino qua grazie mmm che fortuna cioè ho trovato proprio il mio preferito cioè dicevo madonna se trovo Mario sono super felice ho trovato Mario bello la fortuna non è mai troppa vediamo un secondo cosa ci sarà dentro wow un mega pugno di Thor no devi darlo sulla riga sulla riga sulla riga ah abbrazza dai bravo mmm vediamo chi c'è ma dai un altro Super Mario no chi è Toad Yoshi no veramente Yoshi ma siamo super sfortunati Yoshi è mio ma è mio ma è mio ma è mio preferito è di tutte e due va bene buon pomeriggio buon pomeriggio si sto vlog finirà prima o poi è durato tipo 3-4 giorni ma dettagli qua c'è la piccola ale che si dondola sulla sdraietta anzi il papà qui c'è il papà ciao che adesso vi vuol far vedere cosa ha ricevuto per il compleanno da mua attendere prego stiamo lavorando per voi stiamo mettendo il ciuccio roberta mi ha regalato dragon ball tanta roba finalmente ho un videogioco che sia mio per la switch è un po' contro luce però finalmente ho un videogioco dicevi che finalmente ho un videogioco tutto mio per la switch tutto suo per la switch ed è una meraviglia perché mi scasso doveva morte e sangue di istruzione quindi per i maschi in ascolto sappiate che questo gioco merita però è per la switch si e se non ce l'avete c'è per qualche altra console? no non lo so io ho la switch quindi chi se ne fai cadere ah ok non lo so non lo so mi cogli impreparato guarda sembrano i tuoi capelli uguali proprio ciao ciao aiuto aiuto ale ti piace questa canzone? si e la vibrazione? ti piace? si sicura? l'accendiamo? assolutamente si e perché sputacchi il ciuccio? per parlarti meglio ah ok ecco perché prima ti sentivo un po' ciuccerellosa amore amore ciao spettacolo mi piacciono i miei cuffetti sei un sogno addio andy 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 si aiuto il cane feroce e questi due regaline che mi ha portato la mia cognatina mi ha portato appunto questo che adesso poi te lo aprirò capirò se è un canavaccio da cucina o se è un asciugamanino però vederlo mi sembra più un canavaccio da cucina e qui c'è una saponetta a forma di limone veramente graziosissimo e questo l'ha presa mentone perché appunto è stata lì e poi ha portato un pensiero per la bimba aiuto ha preso questa magliettina qui da mettere appunto per i primi tempi infatti è se vi interessa è di benetton ed è uno tra i mesi se non mi sbaglio si uno tra i mesi e ha appunto questo micino con scritto it's friday e venerdì con tutti questi fiorellini molto molto carina molto primaverile infatti per le prime giornate ok la lavatrice ha finito quindi ora vado anche a stendere diciamo che per le prime giornate calde con una giacchetta sopra è veramente graziosissima e niente quindi questi sono i pensieri di pasco e poi come avete visto anche le uova ieri della kinder di super mario e ha trovato due go kart uno di super mario e uno di yoshi federa felicissimo e niente adesso mi tocca stendere ragazzi io vi saluto qua perché stanno stanno dormendo tutti vi auguro la buonanotte anche a voi spero che questo vlog un po' confusionario di mille mille giorni vi sia comunque piaciuto e vi abbia tenuto compagnia in caso non l'abbiate ancora fatto iscrivetevi al canale e ci vediamo prestissimo ciao ciao